Quella che ho tra le mani è una lavatrice, la più piccola al mondo. Fase 1. Attaccare le ventose, posizionarla in un secchio o in un lavello, attaccarla alla corrente, riempire il tutto d'acqua, mettere il detersivo, ciò che vogliamo lavare, e adesso non resta che premere questo pulsantino. 3, 2, 1. Ed ora non resta che lasciar fare tutto a lei. Comincerà ad andare avanti e poi indietro. Comunque ho provato a mettere un caricatore più potente. Diciamo che adesso va molto di più. Assolutamente, oserei dire. Calma però, ok? E non è finita nemmeno qua, perché puoi usarla anche per lavare le tue stoviglie. Ecco qui. Magari però non insieme ai panni.